Salve amici siamo giocatori per caso, facciamo l'incarico della settimana 3, usa la chiappa mucche come mod su un veicolo ed è una missione abbastanza semplice, ma prima di tutto iscrivetevi al nostro canale per non perdere tutte le nostre avventure. Per prima cosa che cos'è la chiappa mucche? Facciamo un fermo immagine questa parte qui, la vedete la parte anteriore, cosa vi permette di fare? Vi permette una volta messo sull'automobile o sul camion dove volete, in questo caso non l'ho messo perché il bus della battaglia ce l'ha già di natura, vi permette di distruggere tutto come fosse una riete, voi andate e tutto quello che trovate lo distruggete. La chiappa mucche lo potete trovare ovunque, nelle casse o anche semplicemente per terra, ad esempio questo qui, fermo immagine, è la chiappa mucche, ne contiene due, ognuno vi dà possibilità di modificare due auto. A questo punto dovete trovare un veicolo, che sia qualunque cosa e che non abbia le ganache alle ruote, altrimenti non potete farlo. Io qua ho trovato un camion, lo lancio, va nella parte anteriore e la sfida è finita. Poi sono stato sacrificato perché non avevo più vita, sono stato troppo nella nebbia, ma l'importante è finire la sfida. Bene, spero di esservi stato utile, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto metti un pollice in su che per noi è un gesto bellissimo. Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per essere sicuro di ricevere tutte le notifiche.